Come sta andando con il Green Pass? Scoraggia gli avventori o comunque i clienti vengono lo stesso e lo esibiscono senza troppi problemi? Chi ce l'ha? I clienti assolutamente non hanno creato nessun tipo di problema, abbiamo comunque riscontrato molta collaborazione da parte di tutti, da parte dei turisti e dei locali e quindi non abbiamo assolutamente avuto problemi di nessun genere, nessuna protesta, nessun problema, anzi devo dire che abbiamo trovato estrema collaborazione. In qualche caso isolato di qualcuno che si lamenta un po' di più, però alla fine la gente da sola già arriva preparata se si volesse dire all'interno con Green Pass e tutto e andiamo abbastanza fluidi. C'è qualcuno che è infastidito perché loro danno per scontato che noi sappiamo che loro ce l'hanno, ma io non vado nelle borse della gente, insomma. Altri invece che te lo fanno vedere e chi invece si lamenta proprio come se la decisione fosse stata la nostra e dicono vabbè allora io me ne vado, ciao. Quindi non sono molto contenti, ecco. Vi è mai capitato di dover esibire il Green Pass? Adesso siete all'aperto, non vi serve, però insomma vi è capitato? Per ora no, non è ancora accaduto di doverlo esibire, ma comunque sempre pronta sul telefono perché secondo me è giusto doverlo esibire quando viene richiesto. Quindi è qui, in qualsiasi momento lo esibiamo. No, a me non è mai successo per il momento, ancora no. No, anche io la stessa cosa, sempre mangiato fuori. Non ci è mai capitato, anche perché l'estate spesso si mangia fuori all'aperto, quindi è ancora difficile trovare qualcuno che lo chieda. Ce l'avete comunque questo Green Pass o vi sedete direttamente fuori? Perché non ce l'avete? No, no, io personalmente ce l'ho ad esempio, però comunque non mi è stato mai richiesto né di esibirlo. Io sono appena guarita dal Covid, sto aspettando che si attivi il certificato per poterlo esibire. C'è qualcuno che dice che il fatto di avere il Green Pass potrebbe essere penalizzante, nel senso che magari adesso è estate e col caldo uno vorrebbe sedersi fuori, invece magari qualche ristoratore potrebbe spingere per far consumare all'interno quelli che hanno il Green Pass in modo da lasciare poi i tavoli all'esterno per chi il Green Pass non ce l'ha. È così? No, assolutamente no, comunque noi rispettiamo sempre le volontà del cliente, se il cliente vuole stare dentro sta dentro, se vuole stare fuori sta fuori, ovviamente se sta dentro controlliamo il Green Pass. Non facciamo nessun tipo di discriminazione, chiunque può sedersi fuori dove vuole o sia il Green Pass all'interno come preferisce. Vi ha complicato la vita in qualche modo? Sì, perché comunque i clienti se prima erano contenti, comunque tu li accogli sempre in una maniera più gentile possibile, adesso fanno sempre un po' sulle loro, soprattutto gli anziani, perché appunto loro non hanno dimestichezza col telefono e tanti non hanno ancora il foglio con il QR code e quindi poveretti non sanno nemmeno loro come fare. E forse con la bella stagione si preferisce stare fuori il più a lungo possibile, visto che siamo stati chiusi dentro per troppo tempo? Assolutamente sì. Uno preferisce stare fuori ovviamente, col caldo. Sì, anche perché siamo una città di mare, quindi è meglio stare fuori e farsi una passeggiata sulla riviera, insomma. Vogliamoci restate fin quando è possibile. Con la bella stagione si preferisce stare all'aperto, giustamente. In questo periodo dell'anno, quale agosto, diciamo, la gente è più propensa a sedersi fuori. La maggior parte desiderano tutti stare all'esterno, vista la bella stagione. Ma è fastidioso doverlo esibire? Io ho alcuni amici che hanno deciso di non vaccinarsi, quindi per loro la richiesta del Green Pass non è stata ben accolta. C'è chi invece si è tranquillamente vaccinato e quindi ritiene giusto il dover esibire il Green Pass, anche perché può essere un motivo per ripartire con più tranquillità. Per me è giusto e se siamo qui è perché esiste questo Green Pass, altrimenti saremo probabilmente ancora tutti a casa, chiusi e quindi viva il Green Pass, assolutamente.